Se ti interessa un uomo e sei relazionato, ti stai relazionando con lui, è importante per te riuscire a capire se lui si sta coinvolgendo o meno con te. Per capirlo devi analizzare diversi parametri, diversi dettagli. I parametri che devi tenere sotto controllo intanto sono quelli comportamentali, cioè devi osservare i suoi comportamenti. Al di là di quello che dice, tieni presente che ciò che una persona dice corrisponde eventualmente, nel migliore dei casi, a un suo desiderio logico-razionale, ma non è detto che corrisponda a una sua esigenza emotiva. Per cui, a meno che non sia deliberatamente malafede, prendere per buono, diciamo, ciò che una persona ti dice vuol dire prendere per buono la parte minoritaria di quella persona. Se ad esempio uno ti dice, ah, guarda cara, ti amo tanto, sta esprimendo a livello verbale, quindi l'intenzione, supponendo che non stia deliberatamente mentendo, l'intenzione di amarti, che però è un'intenzione logica, ma la sua parte emotiva sta smettendo completamente quello che la parte logica sta dicendo, per cui non è assolutamente vero che lui ti ama tanto. Vorrebbe, magari è coinvolto da un punto di vista logico-razionale, quindi ti vede come un'amica, ma sicuramente non si sta coinvolgendo sentimentalmente nei tuoi confronti. Quindi devi, diciamo, prendere per buona ciò che si sta comunicando, la parte emotiva. Quindi, per sapere cosa comunica la parte emotiva devi prendere in esame fondamentalmente la comunicazione non verbale. Però molto importante è anche il tipo di comportamento che questa persona mette in atto nei tuoi confronti. Anche qua, il comportamento può essere per certi versi modulato, però la persona non riuscirà a lungo a condizionare il suo comportamento attraverso un controllo logico-razionale. Prima o poi verranno fuori delle esigenze emotive che vengono inevitabilmente fuori. Il suo comportamento sarà quello che manifesta la sua parte emotiva. Ad esempio, se lui ti dice, ah, io so tanto bene con te, però poi appare distaccato, nervoso, ogni volta che entra in relazione con te lo vedi freddo, vedi che il suo sguardo è rivolto dappertutto, ma non è concentrato su di te, significa che vive anche, potrebbe addirittura, vivere delle tensioni legate magari a qualche rabbia, magari per qualche motivo nei tuoi confronti. Per cui sicuramente non è un segno di coinvolgimento, perché ogni volta che c'è rabbia non ci può essere amore. Quindi se anche ogni volta che ti vede tende ad avere degli scarchi di tensione di questo genere, grattamenti, oppure a tormentarsi, lo vedi che si tormenta in questo modo, addirittura riporivare, adesso io non riesco, diciamo, alla tricotillomania, cioè a tirarsi i capelli, si può fare anche con i sopraccigli in questo modo, si tormenta in qualche modo e significa che nei tuoi confronti vive comunque della tensione legata prevalentemente alla rabbia, per cui è un segno fondamentalmente di decoinvolgimento. Inoltre, se per te non fa delle cose, diciamo così, che normalmente non farebbe, anche qua è un altro segno che, insomma, non è coinvolto. Voglio dire, se lui, ad esempio, ha una relazione di tipo sessuale nei tuoi confronti, non è un indicatore di interesse, non è un indicatore di coinvolgimento. E' soltanto, anche qua, il fatto che la parte istintuale, in questo caso, è coinvolta sessualmente, però, come dire, il sesso, i maschi lo fanno pure con le prostitute, delle quali non sono mica innamorati, per cui è soltanto una parte molto parziale di coinvolgimento. E spesso, magari, puoi anche sentirti trattata da prostituta, con la differenza che magari non ti paga. Però il coinvolgimento è solo di quella natura, insomma. Quindi devi parametrare sicuramente quello che ti dice, perché una valenza ce l'ha, minoritaria, ma ce l'ha. Sicuramente, se c'è un'attrazione sessuale nei tuoi confronti, anche qua una valenza minoritaria, ma una valenza ce l'ha. Ma soprattutto devi valutare la sua comunicazione non verbale, che sia congruente con quello che lui dice, e la comunicazione comportamentale, cioè come si comporta, se accetta dei vincoli che tu gli imponi, se comunque trova delle modalità per passare anche del tempo con te in qualche modo. Sono tutti parametri che ti indicano il grado di coinvolgimento. Ovviamente questo grado di coinvolgimento può essere aumentato se tu riesci ad agire nel modo giusto, cioè a produrre la giusta emotività. In sostanza avviene uno scambio. Tu gli fornisci delle emozioni e lui ti fornisce un servizio logico di coinvolgimento. Devi però stare attenta a non prendere l'ucciole per l'antenna, perché molte donne, ad esempio, io dico sì, ma lui viene a letto con me, vorrei dire che gli piacerò. Non è detto, cioè gli piaci da un punto di vista molto superficiale, non è detto che sia coinvolto con te, anzi paradossalmente potrebbe venire a letto con te e pensare a quell'altra che invece di cui è innamorato e non ci sta. Quindi gli indicatori sono quelli che ti ho accennato, quelli sono i parametri che devi tenere sotto controllo. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, metti un like e iscriviti al canale e seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!